Ciao, oggi vi mostro tre esercizi efficaci per allungare i muscoli femorali, quei muscoli che si trovano posteriormente alle gambe. A voi! Ciao, oggi vi propongo tre esercizi veloci per allungare i muscoli femorali che sono appunto quei muscoli che si trovano nella parte posteriore delle gambe. Primo, gambe tese, busto dritto, da fare attenzione alla schiena in questo caso. Quindi cerchiamo di non ingobbirci ma di tenere la schiena dritta e di avanzare lentamente verso i piedi che saranno a martello. Vincolo o alternativa più che altro è eventualmente se fate molta molta fatica a tenere le gambe tese piegate leggermente le ginocchia ma ripeto cercate di fare attenzione in maniera veramente importante alla tenuta della schiena. La schiena deve rimanere assolutamente dritta. Seconda modalità, seconda versione, piego una gamba laterale dietro, una gamba opposta tesa, braccio opposto che cerca la punta del piede per cui le gambe sono vicine. Mi raccomando, piede a martello, braccio opposto teso che cerca la punta del piede, schiena dritta. Anche in questo caso, mi raccomando, fate attenzione alla schiena. Ultima versione, allargo le gambe, schiena anche in questo caso dritta, sguardo assolutamente all'orizzonte, cerco prima un piede, poi mi sposto sull'altro piede, raddrizzando la schiena, quindi avvicinate le scapole, fondamentale tenendo le gambe tese al massimo, ginocchia leggermente piegate se non riuscite, prendo tutti e due i piedi, mi aggancio, eventualmente piego un po' le ginocchia se sono in difficoltà e ho allungato bene i muscoli femorali.